Ben tornati, sono Marco Catania, psicologo, e questa è Tecnica della scuola, la rubrica SOS Genitori. Nella puntata precedente abbiamo parlato del rapporto tra bambini, adolescenti, ragazzi e l'utilizzo dei videogames, soprattutto in un periodo come questo, dove il tempo che trascorriamo a casa, davanti il computer, la tv, eccetera, è nettamente più alto del solito. Bene, oggi parliamo di un altro tema caldo, che è quello degli smartphone. Quando si parla, infatti, di telefonini, si creano queste due grosse macro-categorie di pensiero, di punti di vista. Una è quella che demonizza il telefonino. Lo smartphone fa male, non va utilizzato, va tenuto il più lontano possibile dal bambino durante il suo processo di sviluppo per diversi motivi. Un'altra, invece, scuola di pensiero, un'altra, l'altro estremo, è quello invece degli educatori, dei genitori, delle figure che ruotano attorno al mondo, del bambino, ragazzino, giovane, adulto, che invece sottolineano come sia impossibile togliere il telefonino dallo sviluppo, in quanto elemento che fa parte a tutti gli effetti del nostro quotidiano. Quindi è normale, ovvio e giusto che il bambino entri in contatto anche con lo smartphone, così come entra in contatto anche con tutta una serie di altri device e strumenti tecnologici durante il suo corso di sviluppo. Chi ha ragione tra queste due posizioni? Bene, in realtà nessuno delle due ha torto, sono di vista che in realtà dovrebbero trovare un'unione, perché in entrambi i casi c'è una piccola falla nel ragionamento dal punto di vista quantomeno educativo, pedagogico, eccetera. Perché da un lato una di queste idee punta sul fatto che il telefonino sia un po' la versione moderna della tv. Spesso genitori o altre figure appunto che ruotano attorno al mondo del bambino dicono, eh beh, ma quando io ero piccolo, ero piccola, comunque c'era la tv, è un po' la stessa cosa. Ebbene, non è la stessa cosa, perché qui dobbiamo trovare già una prima grossa differenza. La televisione anzitutto è uno strumento, un device fisso, il che impone per motivi logistici tutta una serie di limiti nel suo utilizzo. Ho una stanza dove c'è la tv, ho più stanze dove c'è la tv, non posso portarmi la tv fuori. E quindi ne limita l'utilizzo, ne limita la mia fruizione. Secondariamente, parte più importante, una tv propina dei contenuti. Contenuti che sono pensati da una serie di enti e che sono regolamentati, controllati, tanto che noi abbiamo una serie di fasce orarie, fasce protette, bollini che indicano il tipo di fruizione che se ne può fare, bollino verde, giallo e rosso. E comunque parliamo di un contenuto appunto che innanzitutto è mediato a monte e che è propinato secondo un palinzesto. Quindi può piacermi quello che c'è, può non piacermi. Quello che c'è generare noia è farmi allontanare da quel tipo di intrattenimento che magari non mi interessa. Quando invece parliamo di smartphone, il processo è totalmente diverso. Ora, lo smartphone chiaramente è un mezzo per, quindi il punto non è lo smartphone, il punto sono le piattaforme contenutistiche online, come possono essere YouTube, come possono essere Twitch, TikTok, Instagram, eccetera. Dove non è l'emittente che mi dà il contenuto, ma sono io, fruitore, che cerco i contenuti che mi interessano. E questo quindi rompe uno dei meccanismi che è quello della possibilità della noia. Perché se mi interessano gli streamer di videogiochi, posso vedere streaming di videogiochi su più canali per un infinito tempo, perché c'è sempre quel contenuto. Mi interessano canali di intrattenimento, me contro te, giusto per dire un esempio, posso cercarli e posso vederli costantemente. Quindi non è l'ente che mi propina dei contenuti che mi possono piacere o non piacere, ma sono io che vado a cercare quel contenuto e di conseguenza questo ne rende la fruizione potenzialmente illimitata. Viene da sé che questo crea quel meccanismo che conosciamo benissimo, soprattutto con i più piccoli, di ne voglio ancora, ne voglio ancora, ne voglio ancora, perché c'è un contenuto che mi piace, mi emoziona, mi soddisfa, è fatto bene e quindi vengo tirato in ballo. Questo meccanismo non è sfuggito ai grossi colossi dell'ambito informatico, tanto che YouTube ad esempio si sta spostando sempre di più verso una politica family friendly, iniziando a eliminare, a dare meno visibilità a tutti i video che introducono parolacce o contenuti particolarmente sensibili, violenti, eccetera. YouTube si sta muovendo in quella direzione, altre piattaforme invece vogliono mantenere una massima trasparenza all'interno dei contenuti che hanno. Ora, quando noi parliamo del telefonino non stiamo mettendo in luce quali sono gli aspetti fisici negativi, per cui dicono il telefonino fa male anche alla vista, questo lo sapevamo già, le ricerche sui danni che gli schermi hanno alla vista sono abbastanza note e consolidate. Ce n'è altre sull'utilizzo del touchscreen, ma ancora sono un po' in via di sviluppo. L'argomento che ci interessa di più, che è quello che poi diventa centrale quando si parla di questo, è l'aspetto puramente psicologico, cioè come questa fruizione di contenuto, come quest'utilizzo spesso smodato può impattare sul bambino o soprattutto è giusto che abbia questo tipo di impatto o devo prevenire il più possibile. Vale più o meno la regola già detta per quanto riguarda i videogame. Non è un discorso di demonizzazione, non è considerabile lo smartphone come negativo in toto, ma è un discorso di qualità e quantità dei contenuti a cui figlio ha accesso. vale per lo smartphone, vale per la navigazione online, vale per la televisione. Chiaramente diverse fasce d'età hanno diverse esigenze educative. È ovvio che se un figlio ha 3, 4, 5 anni il discorso educativo sarà completamente diverso rispetto a un bambino di 10, di 11, 12 o un adolescente. Per carità è ovvio che ci siano queste differenze. Ma l'elemento più chiave, questo l'avevamo già accennato parlando di videogame ad esempio, non è quindi l'utilizzo o il non utilizzo, quanto la guida nella fruizione dei contenuti che quello strumento mi dà la possibilità di conoscere e di vedere. Perché ripeto, non è lo smartphone essere buono o cattivo, è l'utilizzo che se ne fa. E come detto anche recentemente in Mediostat Virtus, nel trovare quindi quell'equilibrio tra essere conoscitori intanto dei contenuti che mio figlio va a vedere. Cioè il punto è che se mio figlio vede sempre un canale YouTube, me contro te, Favij o qualcun altro, conoscere che sta guardando è sicuramente un ottimo punto di partenza per capire se è un contenuto adatto a lui, se lo reputo adatto a lui o se è un contenuto di cui deve fruire o è meglio non fruisca. E chi lo decide? E questa è la responsabilità genitoriale. Aspetta ai genitori decidere quali sono i contenuti idonei o non idonei per i propri figli. A prescindere dai bollini che possono avere o dal tipo di recensione che può avere quel tipo di contenuto. Se io reputo che per mio figlio va bene, gli do accesso. Se reputo che non vada bene, non gli do questo accesso. E quindi la parte fondamentale, innanzitutto appunto, è quella di avere una... una prospettiva equilibrata del telefonino. Secondariamente, subentra, come già detto per i videogame, la regola aurea che è avere una regolamentazione nell'utilizzo del device. Regolamentazione interna alla famiglia, non abbiamo bisogno di leggi che ci dicono queste cose. È una regola familiare. Cosa si può fare, cosa non si può fare. E come detto in altri video, è bene che quando abbiamo un tipo di regolamentazione interna alla famiglia, i genitori siano i primi a dare l'esempio. Se seduti a tavola stiamo pranzando e mio figlio prende il telefonino e a me questa cosa non sta bene, è ovvio che nel momento in cui vado a dare la regola che non si utilizza il telefono a tavola, io per primo devo essere quello che è del buon esempio e non utilizzare il telefono a tavola. E non è un discorso a cui si può appellare dicendo, ma io sono grande, io sono il genitore. Perché il genitore, proprio perché è grande, deve dare l'esempio. Proprio perché è il modello di come ci si comporta nel mondo. Ovviamente non dobbiamo considerare questo discorso come assolutistico, la chiamata di lavoro urgente può capitare, ma parliamo della norma, di ciò che accade, di come ci si approccia a quello strumento nei determinati contesti. Lo stesso vale ad esempio per quanto riguarda un altro famoso contesto che è quello del ristorante. Molto spesso si è vista la scena, il ristorante di famiglie che ad esempio danno il telefonino al bambino o alla bambina così da farlo stare buono, farla stare tranquilla. Giusto, sbagliato, non sono qui a dire questo, non è il mio ruolo in questo contesto. Il punto è, qual è cosa sto facendo? Ecco, è domandarsi perché lo faccio con qual obiettivo e quali ripercussioni questo comportamento può avere, sia in positivo che in negativo. Un'altra lamenta che arriva spesso è quella relativa alla comunicazione. Mio figlio, mia figlia sta sempre al telefono, non mi risponde, non mi parla. Bene, in questo caso il problema non è il telefonino. Il telefonino diventa uno strumento di allontanamento, di fuga, di distrazione. Il problema nella non risposta è che la comunicazione in casa o in famiglia non è molto funzionale, non c'è una buona comunicazione o non si riesce a trovare dei punti di comunione. Quindi ragazzo, ragazza, annoiato, annoiata, si distrae con il telefonino, ma non perché voglia il telefonino, perché la conversazione non è sufficientemente attraente, stimolante o il rapporto con il genitore. Non è sufficientemente stimolante o attraente. Ma questa aprirebbe una parentesi infinita che, se vuoi, possiamo approfondire in qualche altro video, basta che me lo lasci scritto nei commenti. Mi interessa questa cosa. Oppure metti un bel like a questo video e lo condividi con altre persone se credi che sia interessante o che alcuni dei punti che ho toccato possano interessare dei genitori che conosci. Detto questo, io ti invito a lasciare, come sempre, dei commenti che mi permetteranno, uno, di creare un po' delle idee per i prossimi video e, secondariamente, se hai delle domande, io ti rispondo volentieri nei commenti. Cliccando sulla campanellina, invece, puoi rimanere aggiornato o aggiornata in questo modo, ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video di tecnica della scuola, verrai avvisata da una piccola notifica che ti ricorderà che è uscito il video. Quindi, sono Marco Catania, questa era SOS Genitori, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao e una buona giornata.